Se tanto dolore ci è dato e soltanto tanta malinconia, perché non dovuta un po' di gioia o che so, anche noia, magari a piccolissime dosi? Tu dici che la storia si ripete con le solite lamentele umane. Ma con questa tristezza addosso non è possibile non implorare un destino più generoso o diverso. Nell'inquietudine sono immerso gran parte del tempo che mi è dato. Lo consumo in questo spiacevole stato e non credo di essere tanto diverso da altri esseri umani che non siano animali, senza nulla togliere a questa adorata categoria, che tuttavia non pensa, non si crea vane illusioni. Insomma, credo che non abbiamo torto a lamentarci, ma dovremmo allontanarci dall'esclusivo piacere per godere d'un'irripetibile occasione più fascinosa, quella della silenziosa, enigmatica, ignota, segreta vita.